che rimonta dell'inter ragazzi che rimonta dell'inter da 1 a 0 fiorentina a 1 a 3 veramente ribaltata completamente stasera non so con la live cos'è successo che era in live lo sa si è disabilitata la chat per due volte ho dovuto riavviare insomma un casino youtube penalizza sempre non so cosa è successo comunque niente le live le ho dovute interrompere alla fine ci ho rinunciato perché si disabilitava la chat non potevo farci niente e peccato sarà per la prossima però devo cercare di risolvere questo problema comunque parlando della partita si pronosticava si prospettava una bella partita diciamo così è stato alla fine mi son visto questa invece che l'atalanta sassuolo così io ho scelto poi c'era anche il papà che la guardava con me che è interista quindi mi sono visto sta partita bella partita un match a due facce perché nel primo tempo non gioca solo però merita la fiorentina invece nel secondo tempo merita ampiamente l'inter quindi diciamo fiorentina che si prende la scena nel primo tempo andando in vantaggio è l'inter nel secondo tempo che ribalta tutto con ben tre gol intanto siamo al novantesimo minuto appena scattato saranno tre minuti recupero comunque parlando della partita appunto fiorentina nel primo tempo veramente offre una prestazione spettacolare nico gonzales indemoniato peccato che poi abbia chiuso nel peggiore dei modi facendosi espellere per proteste comunque nico gonzales indemoniato al duello con screener vince il duello con un fallo dubbio che però non è stato fischiato secondo me poteva essere fischiato come poteva non essere alla fine l'arbitro non ha fischiato ha lasciato continuare nico gonzales va sul fondo vlaovic dusan vlaovic fa un grandissimo movimento perché era al centro dell'area si stacca in dietreggio di due tre metri per venire a prenderla si porta il difensore con sé così che c'è lo spazio in mezzo infatti nico gonzales la mette proprio lì tesa perfetta arriva sottile dalla destra all'altra parte che la imbuca nell'angolino praticamente a porta vuota perché andanovic era beffato fiorentina che gioca benissimo nel primo tempo inter un po sotto anche se nei negli ultimi minuti soprattutto dal trentacinquesimo in poi viene un po fuori prova a fare qualche azione ma nulla di di eclatante nulla di concreto secondo tempo invece la partita cambia completamente cambia completamente faccia l'inter che riparte bello agguerrito aggressivo e in tre minuti al 52esimo con darmian e al 55esimo con ed in gioco trova due gol quindi da 1 a 0 a 1 a 2 in tre minuti riparta la partita gol di darmian bellissimo intanto cross in mezzo comunque gol di darmian bello azione sulla destra darmian praticamente quasi solo in aria in croce di destra il dragoz che non ci può far niente bel gol a proprio a un millimetro dal fuorigioco veramente per pochissimo comunque bel gol di darmian dopo tre minuti calcio d'angolo per l'inter dalla bandierina allo specialista a cancianoglu e la mette precisa precisa in mezzo gioco stacca imperioso fa fa valere il suo metro e novanta la sua grande il suo metro e novanta d'altezza e la schiaccia dentro marcature non eccezionali possiamo dire così le difensioni della fiorentina comunque dragosti dragosti forse poteva fare di più magari smanacciarlo oppure col piede però non era comunque un tiro facile diciamo da parare intanto l'arbitro fischia qui la fine finita la partita comunque arriviamo al terzo gol terzo gol di ivan perisic all'ottantacinquesimo ottantaseesimo minuto qua contropiede fiorentina praticamente lanciato in attacco contropiede gagliardini azione fino in fondo la da perisic dragosti tagliato fuori e tap in e di destro segna appunto praticamente a porta vuota quindi inter non eccezionale anzi un po sottotono nel primo tempo ma poi esce fuori in secondo tempo e fa ben tre gol a un'ottima fiorentina diciamo però solo nel primo tempo comunque il video 5 minuti mamma mia ho parlato tanto mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale attivando la campanellina fondamentale siamo vicinissimi ai mille fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate della partita io vi saluto bene